Hola hola! Prebiotici, probiotici, microbioma, pH della pelle, barriera cutanea, sai come mettere tutto questo insieme? E come farlo bene? Te lo spiego in questo video. Subito il video! Benvenuti, bentrovati, ritrovati, ben arrivati, ben tutto. Grazie di essere un'altra settimana qua con me a parlare di skin care, di bellezza, di sieri, creme, maschere, di tutto, tutto quello che ci piace, tutto quello che è la mia passione. Il mondo della skin care, come scegliere in tutto questo mare di prodotti per non spendere troppi soldi, a volte sì che si spende, a volte non tanto, ma almeno saper scegliere, ok? Per chi mi conosce io non mi devo presentare, con tutto quello che mi iscrivete, carinissimi, non mi devo presentare, ma ci sono delle persone che arrivano in questo canale senza sapere chi cavolo sono io. E io mi presento, io sono Luis Campos, sono un medico, sono un chirurgo, mi occupo di medicina e di chirurgia estetica, sono spagnolo, ecco questo accento da dove viene, ma vivo a Milano, per quello che vi parlo in italiano. Vivo a Milano, lavoro a Milano, esercito la professione a Milano, quindi se mi volete trovare in clinica sono a Milano, che mi direte tanti. Ma lei dov'è, dov'è, dov'è? A Milano. E niente, felice e contento di essere qua tutte le settimane con voi, ogni giovedì io vi pubblico un video dove vi parlo di cosmetica, di integratori, di come migliorare l'aspetto del viso, dei capelli, del corpo, della vita, di tutto, ok? E in questa occasione, prima di andare a quello che devo parlare oggi, ricordati se ti piace questo argomento, se ti piace questo canale, se ti sto simpatico qua sotto, ti puoi iscrivere, che c'è la sbarra, quella di iscriverti. Se ti piace, dai al campanello, di modo che ogni giovedì quando pubblico un video ti arriva la notifica, non ti dimentichi di guardare un mio video. E se ti piace, fai così, se non ti piace, fai così, se non ti piace, va bene, va a tenere a vedere un'altra cosa. Siamo chiari, siamo onesti, no? E poi, se mi volete seguire dal cellularino più comodo, su Instagram e su TikTok, facendo i balletti. No, non ballo su TikTok, non so, forse in futuro. Parliamo dell'argomento di oggi, prebiotici, probiotici, creme, sieri, eccetera, il microbioma. Allora, devo dire che da una parte, la prima cosa dico la parte negativa. Da una parte, sento che, vedo che c'è un pochettino di eccessivo, questa cosa, il microbioma, microbioma, prebiotici, probiotici, eccetera. E poi dopo vi spiegherò perché, perché sono stati tutta la vita lì, praticamente. Da una parte c'è un po' eccessivo, da un'altra parte mi piace che ci sia quello eccessivo perché sta creando una consapevolezza molto importante. Se in passato si parlava del pH della pelle, di cose che rovinavano il pH della pelle, di cose che equilibravano il pH della pelle, ancora oggi si parla. Ma oggi si sta parlando tantissimo di microbioma, di prebiotici e probiotici, di prebiotici, probiotici, pre-pro. E si sta parlando della barriera cutanea che è un concetto molto importante. La nostra pelle, sopra le cellule, ha un estratto fosfolipidico. Quindi ci sono dei lipidi, ci sono dei grassi, del grasso buono, che ci aiuta a proteggerci da inquinamento, freddo, di tutto quello che ci circonda. Incluso detergenti o shampoo troppo aggressivi, bagno schiuma troppo aggressivo, il calcare dell'acqua della doccia, eccetera. Quella barriera fosfolipidica è fondamentale in mantenerla in equilibrio. Se uno non la mantiene in equilibrio, compaiono eczemi, compaiono irritazioni, compaiono la cutia atopica, la pelle atopica, la dermatite atopica, altri tipi di dermatite, dermatosi. Si devono principalmente a un squilibrio della barriera cutanea. Come si mantiene la barriera cutanea? Ok, sulla superficie della pelle abbiamo dei batteri buoni, i batteri sono ovunque, nella natura, sul divano, sulla sedia, sulle melle che ci sono negli alberi, ovunque andiate ci sono i batteri. Ma ci sono dei batteri buoni e dei batteri cattivi. In questo caso sulla pelle di solito ci sono dei batteri buoni che vanno a mantenere l'integrità di questa barriera cutanea. E questi batteri bisogna dargli da mangiare. Quindi se voi sul viso applicate delle creme, dei sieri che contengano ingredienti e l'alimento di questi batteri buoni, voi alla vostra pelle state dando prebiotici. Se invece nella siero, nella crema state dando dei batteri vivi o frammenti di questi batteri che andranno a stimolare la crescita di questi batteri buoni sulla vostra pelle e che si mantengano di un modo salutare e equilibrati sulla vostra pelle e di conseguenza vadano a rinforzare e a mantenere e equilibrare la barriera cutanea, gli state dando prebiotici. Quindi prebiotici sono l'alimento dei batteri, prebiotici sono i propri batteri vivi. Ok? Sono due cose diverse. Perché prima dicevo che si sta esagerando con questo concetto? Si sta esagerando perché i prebiotici si danno da una vita. Nel senso, vi dico, prebiotici, l'avena, l'avena è un prebiotico, il ribesnero è un altro prebiotico. Quindi c'erano degli ingredienti che in cosmetica, il latte di avena, per le creme e tante cose si venivano io utilizzando in cosmetica. Quindi senza saperlo noi stavamo dando alla nostra pelle una cosa che le serviva, la pelle, quei batteri buoni come alimento. Quindi è da amo che si stanno dando prebiotici alla pelle. Adesso lo sappiamo e quindi sappiamo che quelle creme, quei sieri, li possiamo caricare più di prebiotici e allo stesso tempo possiamo mettere anche i probiotici. Tutto questo ecosistema della nostra pelle, di questi batteri buoni, si chiama microbioma o si sta chiamando adesso microbioma. Ma questo microbioma può stare in equilibrio e quindi creare un'ottima barriera cutanea ma può perdere il suo equilibrio. La situazione in cui perde l'equilibrio, per esempio, è durante l'acne. Perché? Perché l'acne è creato da un batterio cattivo che dentro della sua famiglia, questo come la peccora nera, delle famiglie. Ok? Sapete che la peccora nera sempre desestabilizza, squilibra la famiglia. Ok? Perché lei di sé è squilibrata. Il batterio dell'acne è uguale. È un batterio che va a squilibrare, a compensare questa barriera cutanea e questa famiglia. Nella famiglia ci sono fratelli, ci sono batteri praticamente uguali a lui e ci sono cugini praticamente uguali a lui. Quindi dentro dello stesso filotipo, ok, della stessa famiglia, del filobioma, esistono diversi filotipi. E quindi esiste che se la peccora nera si moltiplica, la pelle avrà un acne più severo. Non questa peccora nera, la peccora nera del batterio dell'acne. Se invece noi facciamo che aumentano le parti buone della pelle, i batteri buoni, vanno a controattaccare quel batterio cattivo, quel batterio dell'acne. Questo per darvi un esempio di come si regola, si autorregola questo equilibrio, ma che a volte si va a sregolare e dobbiamo dal di fuori e da dentro aiutare a compensarlo. Ok? E dopo aver fatto tutta questa introduzione di prebiotici, probiotici, microbioma, filobioma, eccetera, andiamo a consigliare qualche prodotto. Detersione. Non ho fatto tantissimi prodotti. Detersione. Vi consiglio questo latte detergente che è realmente un'acqua micelare lattiginosa di dermalogica, ok? A base di prebiotici, quindi contiene l'avena, contiene l'olio emolliente del nocciolo dell'albicoca e poi contiene anche, come dire, delle proteine del seme, del cotone che contiene amminoacidi. Quindi un'acqua micelare ma che diventa lattiginoso con un pochettino di sapone, quando lo massaggi crea un pochettino di schiuma e serve benissimo come primo passaggio della detersione alla sera. Nella doppia detersione alla sera come primo passaggio per estrucare, per rimuovere la protezione solare, eccetera, va benissimo. Lo potete utilizzare anche al mattino come detersione unica al mattino, soprattutto per le pelle, per le pelle più delicate o per qualsiasi pelle, ok? Secondo prodotto che vi volevo presentare è questo siero di Rouge, ok? Che Rouge ha creato tutta una linea di prodotti prebiotici e probiotici, ok? In questo caso parliamo di un siero ricco in prebiotici elasticizzanti insieme ai ceramidi. I ceramidi sono appunto i fosfolipidi buoni che servono per creare la barriera cutanea. Quindi questo siero va perfetto nelle persone che hanno una barriera cutanea indebolita o che sono sottoposti a terapie di acne con tretinoina o con isotretinoina o cose che irritano tanto la pelle o trattamenti estetici che irritano la pelle. Questo siero può andare perfetto per voi perché oltre a contenere i prebiotici che andranno a migliorare la barriera cutanea, andranno a migliorare i batteri buoni, contiene anche ceramidi che vanno a dare l'alimento per creare quella barriera fosfolipidica. Oltre a quello contiene un complesso che lo chiamano ecobiotis, mi sembra, che contiene dei peptidi, quindi super completo. L'altro siero che vi volevo presentare è questo di Aurelia, che è un marchio di Londra, che anche questo contiene prebiotici. Oltre ai prebiotici contiene degli oli essenziali, quindi più profumato, più un siero avvolgente come odore piacevole da mettere nel viso Questo contiene tanti prebiotici, insieme ai prebiotici contiene tanti antiossidanti del Baoba, che contiene l'Omega 3, l'Omega 6 e l'Omega 9, quindi super anti-infiammatori, contiene anche la vitamina E e, come dicevo, gli oli essenziali. Un altro prodotto un pochettino più tecnico, più complesso, sarebbe l'Epiduo, il Faclar M della Rospose. Questo è un pochettino più complesso perché è un trattamento anti-imperfezione per trattare l'acne, ma che allo stesso tempo che mi sta trattando l'acne, ma mi sta trattando l'acne di un modo molto gentile. Non è il tipico prodotto per trattare l'acne che mi va a irritare tanto, o che mi va a seccare la pelle. Qua quello che ha visto la Rospose era, come vi dicevo all'inizio di questo video, esistono delle famiglie di batteri e quindi la famiglia del batterio dell'acne, si è visto che l'acne ha diversi filotipi, quindi c'è il filotipo LA1, LA2, LA3 e così via, non mi ricordo quanti siano. Quello che si è visto è che nelle situazioni di acne, se cresce tanto, se non ricordo male era il filotipo A1, se cresce tanto la popolazione di batteri di quella A1 e si avvassano le popolazioni degli altri filotipi, A2, A3, eccetera, l'acne sarà più severa. Quindi si è visto che se noi arricchiamo la nostra pelle con gli altri filotipi, quelli che stanno scendendo, e diamo un prodotto che contiene quei filotipi, quei filotipi crescono e crescendo, moltiplicandosi tra di loro, vanno a far sì che si avassi il filotipo cattivo di quel batterio, dell'acne, e quindi così va a migliorare anche la situazione dell'acne. Quindi qua stiamo parlando di un prodotto pensato per mantenere il microbioma e essere rispettoso con la pelle, trattare l'acne senza essere un prodotto aggressivo, quindi incluso le pelle sensibili lo possono utilizzare. E per ultimo, ma non meno importante, se parliamo di prebiotici, se parliamo di probiotici, io sempre penso prebiotici, postbiotici, no pre e pro, ok? Dobbiamo parlare di integratori per bocca. Perché? Perché si è visto che, e vi presento questo prodotto, è il Heal My Plexus, My Solar Plexus, di De Pura Vita. Si è visto, e ve l'ho detto in tantissimi video, che la pelle è in contatto con il mondo esterno, ok? Ma anche il nostro intestino. Quindi dalla nostra bocca, quando noi facciamo colazione, cena, pranzo e bla bla bla, entrano tantissimi batteri, entrano tantissimo cibo spazzatura, tantissimo cibo buono, ma si è visto che il nostro intestino, essendo così tanto lungo, entra molto in contatto con tutto questo mondo esterno degli alimenti che contengono, come vi dico, batteri, cose buone, cose cattive, eccetera. Quindi è un'altra barriera o un altro contatto che noi abbiamo con il mondo esterno. Quindi si è visto che se quella barriera è sana, e quindi se la microflora intestinale è sana, noi riusciamo ad avere digestioni corrette, senza gonfiarci, ma allo stesso tempo si assorbono meglio i nutrienti e soprattutto si assorbano meglio le vitamine, gli elementi e tutto quello che serve per mantenere il nostro corpo sano. E siccome la pelle è un organo del nostro corpo, se il nostro intestino è sano, la nostra pelle sarà sana. Se il nostro intestino invece ha una funzione di E, ok? di M, e non perché facciamo la M, se no perché non funziona bene l'intestino, noi non saremo capaci di assorbire i nutrienti, le vitamine, gli aminoacidi, gli elementi che servono al nostro corpo per regolarsi e di conseguenza avere una pelle sana. Nel nostro corpo ci sono degli organi che sono molto più fondamentali della pelle. Quindi se il nostro intestino riesce a assorbire una certa quantità di nutrienti essenziali, questi nutrienti saranno dati al cervello, al cuore, ai reni, ai polmoni, al fegato, che sono gli organi essenziali. La pelle sarà praticamente l'ultimo a ricevere questi ingredienti perché la pelle è e non è essenziale, nel senso che la pelle può essere rovinata ma tu continua a vivere. E quindi a quel punto si presentano degli squilibri nella pelle e quindi situazione di dermatite atopica, eccetera. Quindi da anni si è visto che c'è un collegamento praticamente diretto, direi, tra la buona salute dell'intestino e la buona salute della pelle. Si è visto che nutriendo l'intestino, migliorando la microflora dell'intestino, migliora la pelle. Stati di eczema, psoriasi, dermatite atopica, acne, eccetera. Se noi andiamo a migliorare l'intestino, migliora la nostra pelle e migliorano i condizionanti. Se stiamo facendo una terapia, una routine di skin care per non avere la perdita di lassità, per avere una pelle luminosa, per avere una pelle sana, se noi mangiamo correttamente perché siamo quello che mangiamo e se la nostra microflora intestinale è sana, il nostro intestino sarà sano. E tutto questo per spiegarvi che questo prodotto, il MyHeal Solar Plexus, contiene prebiotici e probiotici. Come prebiotici, contiene la gomma di guar japonese che è parzialmente idrolizzata. Questo viene da un legume che è idrosolubile e che crea fibra di modo che, passando dal nostro intestino, quella fibra, quella porta che stiamo facendo di fibra idrosolubile farà sì che il transito intestinale sia fluido, sia corretto, che la cacca, diciamola così, e anche le feci non vadano a grattare o irritare troppo le pareti del nostro intestino e di conseguenza irritarlo perché anche lì, se noi abbiamo delle feci troppo dure, scusate che lo dica così, vanno a irritare l'intestino, un intestino irritato, un intestino che non assorbe bene i nutrienti. Se tu mangi, se voi mangiate con tanta fibra, la fibra idrosolubile come quella che contiene questo integratore, la gomma di guar, fa come se fossero delle palline che aiutano a muoversi le feci, a muoversi tutta la materia che c'è dentro dell'intestino e di conseguenza non irritare le pareti dell'intestino e di conseguenza il nostro intestino funzionerà bene, non si gonfierà, non ci sarà la pensantezza, eccetera. E quello è il prebiotico che contiene Myhill Solar Plexus. L'altro ingrediente che contiene è un probiotico. Il probiotico è il bacillus coagulans, il bacillus coagulans, che è un batterio, un batterio buono e contiene 20 miliardi di colonie di questo batterio. Quindi un batterio molto, come diciamo, molto concentrato, va bene, ma è un batterio buono. Quindi questo batterio buono andrà a aiutare ai batteri buoni del nostro intestino per ripristinare la microflora batterica dell'intestino, di conseguenza aiutare a che la funzione dell'intestino sia corretta, evitando la pancia gonfia, la pesantezza, il gonfio intestinale e di conseguenza facendo sì che gli ingredienti e i nutrienti della nostra alimentazione vadano ad entrare perfettamente dal tubo digerente al sangue e da lì direttamente ai nostri organi. E qualunque dei nostri organi la pelle è un organo e di conseguenza la pelle migliora. Quindi quando fate qualsiasi routine di skin care e pensate un integratore prima che stare a pensare all'integratore di ialluronico collagene eccetera la cosa prima che dovete fare è proteggere il vostro intestino migliorare le condizioni del vostro intestino perché se voi prendete integratori omega 3 vitamine collagene idrolizzato marino di mucca di varia di assino di tutto se prima il tuo digerente non è sano non si assorbe praticamente niente quindi quando chiedete ma il migliore prodotto prima preoccupatevi per il vostro intestino e preoccupatevi di mangiare perché siamo quello che mangiamo ve lo ricordate? ok e questo era tutto quello che io volevo dire sembrava che vi stavo cazziando alla fine di questo video ma no non vi cazzo era solamente ve lo spiegavo questo era quello che volevo dire concetto del microbioma un concetto leggermente nuovo ok che si sta sentendo tanto devo dire che si sta imparando tanto negli ultimi anni questo è stato un bellissimo salto in avanti nella ricerca scientifica per quanto riguarda la dermatologia i problemi della pelle e che dalle problematiche serie della pelle ha dato un salto anche nella cosmetica e anche nella salute della pelle solamente per per piacere non per una problematica molto importante da tenere molto in considerazione si saprà di più nei prossimi anni quindi io vi invito a provare questi prodotti e soprattutto a curarvi da dentro ok a prendervi cura di voi stessi da dentro con gli integratori e con una buona alimentazione ricordatevi se vi è piaciuto il video qua sotto c'è la sbarra per iscriversi al mio canale fare così se ti è piaciuto così se non ti è piaciuto se fai così non tornare più che ti vedo e se vi piace volete ricevere le notifiche ogni settimana c'è il campanello ok instagram di là rispondo quasi tutto sapete che qua su youtube faccio più fatica in instagram mi è più facile con il cellularino lasciatemi i vostri commenti e in tiktok ci mettiamo tutti a ballare a cantare ok e la prossima settimana io sarò di nuovo qua a parlarvi di skin care di bellezza di tutto quello che ci piace io vi saluto e vi ringrazio buonasera buonanotte buongiorno non so quando state guardando questo video qua è sera e io adesso vado a cena ciao 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 ciao